Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parleremo di Ada Lovelace, la donna che immaginò l'informatica. Augusta Ada, Eida in inglese, Byron, nacque nel 1815 con un nome molto diverso da quello con il quale la conosciamo oggi. Anche se all'epoca era comunissimo prendere il cognome o il titolo nobiliare dal marito, vedremo come capire la storia del suo nome sia importante per comprendere la formazione di una delle menti più geniali dell'Ottocento. Il padre fu il vulcanico Lord George Gordon Byron, poeta, politico e rivoluzionario inglese che visse 36 anni, pochi in senso assoluto, ma abbastanza da fargli vivere numerose esistenze mortali. Fra le tante donne che conobbero il poeta, anche Anne Isabella Milbank, detta Annabella, nobile ereditiera inglese che sposò Lord Byron e che con lui visse per circa un anno. Dall'unione nacque la piccola Augusta Ada Byron nel 1815, che vide il padre per qualche giorno e poi non lo incontrò mai più. Ad Ada venne dato il nome della sorellastra del padre, Augusta, che fu il principale motivo della separazione dei genitori. Lord Byron e Augusta erano amanti. Ada fu l'unica figlia legittima di Lord Byron e venne allevata dalla madre Anne, che, per scongiurare che la bambina ereditasse la vena poetica e ribelle del padre, la fece applicare in studi di matematica e logica, per le quali dimostrò subito una forte predisposizione. La madre, al contrario degli angelici dipinti che la ritraggono, era dispotica, violenta e piena di rancore verso il padre della figlia. Anne non smetteva mai, giorno dopo giorno, di ricordare ad Ada che il celebre genitore l'aveva abbandonata. Per sempre. Oltre alle percosse e alle violenze mentali della madre, a fiaccare Ada ci si misero pure dei violenti attacchi di cefalea e, nel 1829, il morbillo, che la costrinse un anno a letto. Ma Ada non si arrese. Le violenze e le malattie non fecero altro che rendere più decisa la giovane Byron, che proseguì nei suoi studi coadiuvata da William Friend, William King e Mary Somerville, celebri matematici inglesi. Ada trovava il proprio equilibrio grazie allo studio dei numeri. La giovane mostrava una predisposizione eccezionale per lo studio della matematica e, già a 17 anni, il professor Augustus de Morgan, professore all'Università di Londra e suo precettore, informò alla madre che Ada aveva la possibilità per diventare un'eminenza di prima categoria. Ma il rapporto con la madre non era certo dei migliori, anche se le accomunava la passione per la matematica e, per Ada, uscire dalla casa familiare divenne una necessità per la propria salute mentale. E proprio a 17 anni conobbe il matematico Charles Babbage, già celebre, che le mostrò la sua macchina differenziale, con la quale era possibile eseguire dei calcoli. La giovane Ada iniziò a frequentare la corte inglese e fu una delle ballerine più celebri della sua epoca e, con la fama, arrivò anche la proposta di matrimonio. Ada si sposò nel luglio del 1835 con William King Noel, conte di Lovelace, e con lui ebbe tre figli. Byron, chiamato come il cognome del padre, Anne Isabella, chiamata come la madre, e Ralph Gordon. Dopo le gravidanze e un'altra grave malattia, che la costrinse a letto diversi mesi, Ada Lovelace si ributtò a capofitto sui suoi studi. Iniziò una proficua collaborazione con il professor Charles Babbage, che nel mentre aveva inventato anche la macchina analitica, che fu tanto stupito dalle capacità della donna da chiamarla incantatrice dei numeri. Ada approfondì lo studio della macchina analitica in modo singolare. Babbage aveva spiegato la propria macchina analitica al congresso degli scienziati italiani, che si teneva presso l'Università di Torino, dove un giovane ingegnere, Luigi Federico Menabrea, ne descrisse il funzionamento in una relazione di 20 pagine. Menabrea, che divenne molti anni dopo primo ministro del Regno d'Italia, scriveva in italiano e quindi Babbage chiese ad Ada di tradurre la relazione. Da Lovelace non solo tradusse, ma arricchì enormemente lo scritto di Menabrea, che divenne una relazione di circa 50 pagine in cui viene descritto a grandi linee il funzionamento del primo computer della storia. Tra le annotazioni della donna ci fu anche un algoritmo utile per il calcolo dei numeri di Bernoulli, celebre come nota G, considerato oggi come il primo programma informatico della storia. Ada Lovelace viene quindi considerata la prima programmatrice della storia. Menabrea e Ada iniziarono una prolifica corrispondenza che spronò la donna ad approfondire ulteriormente gli studi e a immaginare gli impieghi futuri della macchina analitica. Nel 1843 pubblicò un articolo nel quale immaginava un mondo dominato dall'intelligenza artificiale, da macchine programmabili e in cui questo tipo di sistemi sarebbero stati cruciali per il destino dell'umanità. Ada aveva visto il futuro. Dopo aver prolificamente collaborato con il professor Babbage, Ada Lovelace collaborò anche con Michael Faraday, celebre per i suoi studi sull'elettromagnetismo, e John Herschel, astronomo e scienziato inglese. Ma la vita con Ada non fu generosa. All'inizio degli anni 50 dell'Ottocento si ammalò di cancro all'utero. La madre, anche in questo caso, fu determinante nel farle trascorrere in modo drammatico gli ultimi sgoccioli della sua vita. Anne le allontanò amici e conoscenti dal capezzale, lasciandola ad affrontare la prospettiva della morte sola, sostenuta soltanto dal fanatismo religioso che tentava di inculcarle. Ada Lovelace morì il 27 novembre del 1852. Aveva 36 anni, come 36 anni aveva anche Lord Byron, suo padre, quando morì. E proprio accanto a lui riposa la geniale Ada nella chiesa di Santa Maria Maddalena Adhocknall. Quando qualcuno di noi digita una lettera sulla tastiera che poi appare sullo schermo, deve qualcosa anche alla sua genialità. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie per la visione!